Buonasera dalla Ciclipuzone, stasera vi presentiamo un modello gravel nuovo Romet Aspre 2 LTD, telai alluminio, forcella in carbonio, gruppo 20 velocità monta tutto Shimano GRX sia come radiatore, cambio posteriore, freni a disco idraulici sempre gruppo GRX Shimano, la bici pesa giusto 10,6 kg, garanzia 2 anni Romet, azienda leader in Polonia che siamo esclusivisti in Campania la potete visionare o acquistare sul nostro sito ufficiale Ciclipuzone oppure venirci a visitare nel nostro showroom a Pomigliano d'Arco vi aspettiamo Grazie a tutti